Vi chiedo di formare famiglie cristiane forti che sappiano comprendere e amare più profondamente le verità della fede e così essere protette da quegli avvenimenti che possono farle cadere. Lo scrive Papa Francesco nel discorso consegnato ai Vescovi di Zambia, ricevuti in occasione della loro visita ad Limina. Il Pontefice chiede ai presuli di aiutare le coppie cattoliche nel loro desiderio di fedeltà nella vita coniugale e di fornire una casa spirituale stabile ai loro figli. Così l'autentico insegnamento della fede toccherà la vita quotidiana delle famiglie dello Zambia. Il Papa esorta poi i Vescovi ad essere vicini ai giovani che cercano di trovare una propria identità in un tempo di grande disorientamento e come pastori di non dimenticare di invitare chi è cresciuto con una fede tiepida per farlo tornare pienamente nella Chiesa e a cercare i più deboli come i poveri e i malati di AIDS. Infine in questo momento difficile per lo Zambia dopo la morte del Presidente Sata Papa Francesco ha invitato i Vescovi a continuare a lavorare con i leader politici per il bene comune approfondendo la testimonianza profetica in difesa dei poveri.